I finanziari del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, la Buccella, su richiesta del PM Picuti, hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, di oltre 140.000 euro, a carico di due persone, entrambi dell'Aquila, per l'indebita percezione di contributi pubblici in danno del Comune dell'Aquila, nell'ambito della cosiddetta ricostruzione privata post-sisma. Al termine delle indagini, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato che una persona, mediante la presentazione di false attestazioni, aveva indebitamente ottenuto un contributo pubblico finalizzato all'acquisto di un'abitazione sostitutiva a quella danneggiata dal sisma. In particolare, è stato riscontrato che l'immobile per il quale era stato richiesto il contributo, contrariamente a quanto dichiarato dalla persona in questione, non possedeva il previsto requisito di abitazione principale. La richiedente aveva presentato una perizia di stima, redatta dal tecnico, con la quale era stato attestato anche un valore dell'immobile superiore a quello reale. Questo comportamento fraudolento ha consentito la concessione del contributo pubblico di circa 140.000 euro, ma che non spettava. L'autorità giudiziaria ha disposto dunque il sequestro nei confronti dei responsabili delle disponibilità finanziarie anche di un immobile, per un importo complessivo pari al contributo illecitamente percepito. Il servizio svolto testimonia la crescente attenzione posta dalla finanza nel contrasto delle condotte illecite e fraudolente perpetrate a danno delle risorse pubbliche nazionali.